A partire da sabato una profonda saccatura atlantica interesserà l'Europa occidentale, facendo fluire sull'Italia e sulla nostra regione forti correnti sud-occidentali umide ed instabili. Domenica giungerà un fronte, lunedì si formerà una depressione sul centro Italia, la cui evoluzione però è ancora piuttosto incerta. Per sabato prevediamo cielo variabile sulla nostra regione, sarà possibile qualche rovescio o qualche temporale, più probabile al mattino su pianura e costa, da partire dal pomeriggio sera sull'alta pianura e sulla montagna. Localmente non è da escludere qualche pioggia intensa. Sulla costa dal pomeriggio sera sofferà scirocco moderato e avremo ampie schiarite. Temperature massime sui 25-26 gradi. Domenica cielo coperto sulla nostra regione, con piogge intense sull'alta pianura e montagna, localmente anche molto intense sulla pedemontana e fascia pedemontana. Su bassa pianura e costa invece piogge più intermittenti e più moderate, con scirocco sostenuto. A partire dalla serata piogge intense anche su queste ultime località. Temperature massime in calo di un paio di gradi. Da lunedì, evoluzione incerta, probabilmente avremo ancora cielo nuvoloso o coperto, con delle piogge in genere abbondanti, localmente forse intense sulla fascia prealpine e sulle zone occidentali. Sofferà tratti e ancora scirocco alternato a Bora. Dall'osservatore metodologico dell'ARPA, Liva Stefanotto.